questo è un incenso che si chiama elemi è una resina estratta dagli alberi che crescono nelle filippine presenta una consistenza simile a quella del miele quando viene bruciata diffonde un profumo di bosco con note fresche di limone ha un effetto purificante energizzante e stimola le facoltà mentali si può prendere elemi e metterlo nell'incensiera un pezzettino ma si può anche annusare i maia lo usavano per le cerimonie esorcizzanti esorcizzavano il male si annusa il suo profumo intenso fa uscire tutta la negatività dal corpo dallo spirito e dall'anima se volete provare le elemi chiedete pure a savina priami le informazioni e ve lo spedisco per posta da tutta italia